L'amico degli animali, sono dove si incontrano, Marco e Tiberio, parlando della faccia. C'è l'altro giorno, al convegno che c'è stato sulla natura e sulla protezione, c'era il dottor Schioppo Schiopettoni, che come tutti sanno, è un grande e appassionato facciatore che se tu l'avessi inteso, quando gli fu concessa la parola, dava morse al microfono, poi ci sputava dentro e gli appaiava contro gli imbecilli che avevano affermato nel convegno che oggi la caccia è un barbaro macello e i cacciatori non vogliono bene a poveri animali. Invece no, secondo Schioppetoni, nessuno al mondo ha mai voluto bene agli animali come cacciatori. Quello che dice Schioppetoni è vero, solo che troppo stroppia e appena il cacciatore ti vede un animale per dimostrargli tutto il suo caldo amore gli spara l'artuccia, piena e zeppa, divenne fino all'urlo. E allora l'animale, pura bestia, se il terreno si colpita all'improvviso, da tutto quel popò di ben di bene, si intermarisce, si emoziona tanto e more dalla grande contentezza, o forse anche per qualche pallettone che era lì casualmente mischiato in mezzo al ben di Dio, nella cartuccia che il buon cacciatore spara conso di lui con tanta affetta. Grazie. Lascio a te, grazie a tutti, alla prossima e grazie a te.